Nei video precedenti abbiamo visto quanto sia importante l'e-mail marketing sia per gli e-commerce che più in generale per i business online e abbiamo anche visto quali sono i vantaggi, gli enormi benefici che questa strategia di web marketing apporta nelle tue vendite di tutti i giorni. Ora cerchiamo di capire in dettaglio come si implementa l'e-mail marketing e cerchiamo di capire quali sono gli strumenti che puoi utilizzare per creare il tuo database di potenziali clienti e soprattutto per inviare le tue campagne pubblicitarie al tuo target di utenza. Attualmente sul mercato esistono decine e decine di strumenti e di piattaforme professionali che puoi utilizzare per fare e-mail marketing ma in questo video voglio consigliarti alcune di quelle che ho utilizzato io personalmente e soprattutto quelle più utilizzate in ambito e-commerce. La prima piattaforma che ti vorrei consigliare si chiama MailChimp. MailChimp è la piattaforma in assoluto più utilizzata e più apprezzata al mondo in quanto è semplice da utilizzare e soprattutto ha dei costi bassissimi. Ti permette di creare un primo account gratuito fino a 2.000 iscritti e fino a 12.000 invi al mese. Di conseguenza non hai bisogno di investire un budget iniziale per poter fare le tue campagne di e-mail marketing. Inoltre MailChimp possiede tante integrazioni per la maggior parte dei CMS e open source e e-commerce. La seconda piattaforma che ti vorrei consigliare si chiama Contact Lab. Contact Lab è presente in Italia ormai da 10 anni ed è molto utilizzata ed è divenuta il punto di riferimento in Italia per quanto riguarda l'e-mail marketing. Questa azienda ti permette di realizzare anche delle integrazioni e dei sviluppi ad hoc per le tue esigenze per la tua azienda e per il tuo e-commerce. Quindi se hai bisogno di una piattaforma che poi successivamente sia integrabile con delle funzionalità particolari puoi utilizzare Contact Lab. Ovviamente questo software di e-mail marketing ha dei costi medio-alti che dipendono molto dal numero di iscritti e soprattutto dalle personalizzazioni che intendi fare alla piattaforma. Il terzo strumento che ti vorrei consigliare si chiama GetResponse. GetResponse nasce principalmente come autorisponditore, come autorespondere in quanto permette di inviare delle e-mail, delle sequenze di e-mail automatiche ad ogni tuo utente. Viene molto utilizzato dagli infomarketer in quanto permette di fare degli automatismi continui sulle e-mail in modo tale da inviare delle e-mail automatiche, delle sequenze di e-mail ai tuoi utenti senza dover ogni volta effettuare delle campagne singole. GetResponse ha dei costi medi che variano in base al numero di iscritti, quindi dipende molto dal budget che hai a disposizione e dalla potenzialità del tuo e-commerce. Il quarto strumento che ti vorrei consigliare si chiama ActiveCampaign. ActiveCampaign è divenuto molto noto negli ultimi anni in quanto ti permette di realizzare delle e-mail marketing automation molto avanzate, quindi ti permette di realizzare veramente dei workflow oppure di gestire i leads, cioè i contatti in maniera separata rispetto alle sequenze di e-mail in maniera molto avanzata in modo tale da poter ottimizzare al massimo le tue campagne pubblicitarie. Oltre all'e-mail marketing automation, ActiveCampaign integra anche un mini CRM che permette di gestire un numero di contatti discreto, quindi ti può essere utile soprattutto se sei una piccola media impresa e non vuoi utilizzare un CRM esterno. I costi di ActiveCampaign variano anch'essi in base al numero di iscritti e sono medio-alti, di conseguenza dipende molto dal budget che hai a disposizione. La quinta piattaforma che ti vorrei consigliare ed è anche una delle mie preferite si chiama Infusionsoft. Infusionsoft ti permette veramente di realizzare delle e-mail marketing automation molto avanzate soprattutto per quanto riguarda gli e-commerce, in quanto integra delle funzionalità molto avanzate per e-commerce e soprattutto integra un ottimo CRM. Ovviamente essendo una delle migliori al mondo ha anche dei costi molto alti, di conseguenza dipende anche qui dal budget che hai a disposizione e soprattutto dallo sviluppo che vuoi realizzare nel tuo e-commerce. Un'altra piattaforma molto interessante di e-mail marketing è sicuramente Silverpop. Silverpop è una piattaforma proprietaria di IBM ed è molto interessante soprattutto se hai un e-commerce ed hai anche un gestionale, un ERP oppure un CRM di proprietà di IBM, in quanto ti permette di effettuare delle integrazioni in maniera molto semplice e molto efficace. La settima piattaforma che ti vorrei presentare è la top in assoluto, è la migliore al mondo soprattutto per gli e-commerce ed è anche in assoluto la mia preferita e si chiama Bronto. Bronto è la piattaforma di e-mail marketing di proprietà di Oracle ed è la piattaforma in assoluto leader negli Stati Uniti per quanto riguarda gli e-mail marketing automation per gli e-commerce. Bronto essendo una delle migliori esistenti al mondo e soprattutto essendo una delle più utilizzate dai più grossi brand mondiali di e-commerce è anche una delle più costose, quindi io non la consiglio per le piccole e medie imprese o soprattutto per chi si accinge per la prima volta all'e-mail marketing o al mondo dell'e-commerce, ma la consiglio soprattutto per i grossi brand o per chiunque abbia un budget enorme e lo può spendere in e-mail marketing. Per chi si accinge per la prima volta al mondo dell'e-mail marketing consiglio di utilizzare MailChimp in quanto ha dei costi molto bassi ed è gratuito nella fase iniziale. Per chi invece ha un e-commerce professionale oppure vuole realizzare un e-commerce professionale e ha anche un minimo di budget da poter spendere, può iniziare utilizzando Contact Lab o GetResponse e in fase successiva può passare per esempio a ActiveCampaign o Infusionsoft. Questi ultimi ti permetteranno veramente di sfruttare al meglio l'e-mail marketing utilizzando dei sistemi, degli automatismi di e-mail marketing automation e soprattutto ti permetteranno di aumentare le conversioni, aumentare gli iscritti e aumentare le tue vendite. Ovviamente ci sono tante altre piattaforme di e-mail marketing come per esempio Vertical Response o Campaign Monitor che non abbiamo preso in considerazione in questo video in quanto non sono magari specializzate o non hanno le funzionalità adatte per gli e-commerce e soprattutto tieni in considerazione che non è importante la piattaforma che utilizzi, che è solo uno strumento, ma è importante la strategia che utilizzi, il piano di marketing, il piano di e-mail marketing che devi implementare all'interno del tuo e-commerce. Grazie a tutti!